Ciao a tutti, io sono capitano di questa bella banda di ragazzi, mi chiamo Roberto, la squadra si chiama Cacimosi. L'obiettivo di giornata è un basso profilo, puntiamo tra il 37esimo e il 38esimo posto, per poi esplodere domani. Dipende ovviamente dalla serata, come sarà, puntato domani, in base alla serata, daremo il 100%. Ciao, sono Lorenzo Mugè, capitano della squadra M, non so come si chiama. Ciao, sono Luca Crattani, di Grappa Vinci e vi aspettiamo tutti qua a Gagliondici. Ciao, 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 io sono Marina Ricci e la Marina Ricci e io sono Gaio Mattia della squadra Asmatici e dalla giornata mi aspetto tanto divertimento e divertimento per tutti.